Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Faccio tutto questo per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate. Per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione dei miei investimenti passati, poi andiamo a vedere i miei investimenti nell'ultimo mese ed infine vi parlo di tutti i miei progetti futuri. Ora immergiamoci nella revisione perché poi, visto il periodo e le soddisfazioni che ci sta dando il mondo cripto, ho deciso di approfondire un po' di più con un ospite le analisi direttamente sui grafici per quel che riguarda Bitcoin. Dato che mi state riempiendo di domande andremo a vedere che succede, cosa possiamo aspettarci e dove siamo diretti. Insomma quella di oggi sarà una puntata bella intensa senza parlare di tutte le novità che ci aspettano per marzo e poi come vedete nell'ultimo mese sono finalmente rincasato a Londra. Ora facciamo veloci e vediamo tutto, poi come sempre se volete accedere o approfondire qualsiasi argomento di cui andremo a parlare oggi, qui sotto in descrizione trovate una marea di risorse. Poi come sempre ci tengo a precisare prima di iniziare che io non sono un consulente finanziario, quindi quando spostate i vostri soldi fate le vostre opportune analisi. E adesso direi che possiamo partire. Le prime che vado a riepilogare sono piattaforme di peer to peer lending, per spiegarle semplicemente qui si vanno a fare prestiti a persone o ad aziende e in cambio di questo prestito noi otteniamo un interesse. La prima nella quale investo si chiama Bondora, la situazione qui è rimasta invariata e nell'ultimo mese ho guadagnato 18,54€ di interessi. La seconda nella quale investo si chiama Mintos, dalla quale in realtà poi sto prelevando il mio capitale, ma nell'ultimo mese ho guadagnato comunque 3,85€ di interessi. La terza si chiama rendimento etico, qui si va a fare peer to peer lending per progetti immobiliari, però gli interessi vengono restituiti quando un progetto finisce, non è terminato nessun progetto, quindi non ho guadagnato nessun interesse. La quarta si chiama Cryptalia, qui si va a fare peer to peer lending per progetti di piccole e medie imprese, di PMI. Nell'ultimo mese in questa piattaforma ho guadagnato 1,27 centesimi di interesse. Per un totale guadagno nell'ultimo mese con il peer to peer lending di 23,66€. Continuando il riepilogo vi do un aggiornamento sul mio conto savings easy access su Revolut, un conto deposito normalissimo, qui hanno tagliato l'interesse da 0,65€ a 0,4€ e ci sta per la situazione economica che stiamo vivendo. Comunque nell'ultimo mese lì ho guadagnato 4,13€ di interesse. Ora è arrivato il momento di parlare di azioni e mercati finanziari dove vi faccio una veloce carrellata. Il mio primo portafoglio su Newtmeg, un robo-advisor dove al mio conto Lifetime ISA, un conto che ti permette di avere delle agevolazioni qui nel Regno Unito, ora mi trovo in profitto di 1922 sterline e questo portafoglio rispecchia i mercati dato che avevo iniziato ad investire a marzo dell'anno scorso in completo crash, ora mi trovo in un'ampia crescita. Come tutti starete notando in questo momento i mercati sono altissimi e nessuno sa quanto possono ancora continuare con questo ritmo di crescita, infatti come abbiamo visto negli ultimi giorni c'è stata una piccola correzione. Io ho la fortuna che gran parte dei miei portafogli, se non tutti, sono in accumulo, quindi non mi preoccupo del prezzo attuale, ma anzi se il mercato dovesse fare sconti sono pronto ad investire ancora di più. Ora passiamo sul mio conto ISA su Trading212 tra aggiornamenti e nuovi investimenti. In questi due screen come sempre vedete l'andamento di tutti i titoli che ho in portafoglio, Birch e Hathaway e Westrock, più tutte le piccole posizioni che derivano dal mio link in vita un amico che trovate in descrizione. Poi come sempre sto continuando ad accumulare due ETF dove investo 1000 sterline al mese, uno sui mercati emergenti e uno sull'S&P 500. E come vi dicevo prima non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale, ma anzi se i mercati dovessero scontare io sono pronto ad investire ulteriormente. Parlando di piani d'accumulo sto continuando il mio piano d'accumulo pubblico sui toro, presupponendo la possibilità di investimento di una famiglia media italiana, investendo quindi circa 400 euro al mese su due ETF e Birkshire Hathaway, conglomerato gestito da Warren Buffett, forse il più ricco e famoso investitore di tutti i tempi. Nell'ultimo mese con questo portafoglio abbiamo fatto il 2,5% e ci troviamo in positivo di circa 380 dollari. E anche qui si cavalca al mercato nel tempo entrando con il cost average. Oltre tutto questo sto continuando a provare due Robo Advisor, Oval e Plum, tra poco tra l'altro arriverà la loro comparazione e recensione. Su Oval in questo momento sono in negativo di circa una sterlina, mentre su Plum sono in positivo di circa 128 sterline. Per provarli entrambi sto usando la loro funzione di deposito e investimento automatico, quindi fanno tutto loro e io sto vedendo come funzionano per poi farci una recensione. Ora finalmente passiamo al settore crypto e Bitcoin che è forse quello che più vi affascina in questo periodo e che è quello dove sta investendo più tempo, energia e soldi attualmente. Nell'ultimo mese il Bitcoin è passato da 33 mila dollari fino ad arrivare a 58 mila dollari per poi attualmente ritracciare e trovarci attorno ai 47 mila. Insomma siamo in un trend positivo ma con una volatilità alle stelle ed è anche questo il motivo per cui in questo momento sono molto più attivo su questo mercato. E come avete visto durante lo scorso mese abbiamo rilanciato una community con due amici, John e Mick, proprio sul mondo cripto, dove oltre a spiegare le basi per non farsi del male abbiamo creato un percorso per imparare a fare trading in modo profittevole sulle cripto. In realtà per me il valore principale dei madman e lo dico da ex cliente prima di diventare membro del team è che si ha la possibilità all'interno della community di condividere idee con persone che sono seriamente attive sul mercato cripto. Se volete diventare e unirvi ai madman trovate tutte le informazioni nel primo link in descrizione. Ma ora come vi avevo promesso ecco un'analisi su bitcoin e quello che possiamo aspettarci. Allora sono Mick e sono qui per fare un update su bitcoin. Schiavizzato. Sono Mick Odelli, sono anche più serio di così ma poche volte e sono qua per dare il mio contributo a quello che è la crescita del bitcoin in questo periodo perché c'è molta confusione là fuori. la gente dice che è troppo alto, la gente dice che sta crollando, la gente dice. La verità è che ci sono alcune poche cose che possono aiutarci a dare una probabilità di dove vada a finire perché come sempre non parliamo mai della sfera di cristallo e di dove pensiamo che possa andare qualcosa ma delle probabilità che possa avere ne andare in una direzione o nell'altra. Il nostro punto è quello di dire che è la probabilità più alta verso che parte va. Allora se questa fosse una parabola, tanto per andare diretti al punto, se questa fosse una parabola saremmo al punto più alto dei bitcoin e quindi ci aspetteremmo quello che è successo nel 2018, ovvero parabola, crollo. però questa è una parabola, questa qua non è una parabola, lo si vede chiaramente perché si inghiozza per bene, quindi ha queste correzioni che prendono il loro tempo per fare in modo che di fatto il bitcoin salga in maniera molto sana. Il modo migliore per accorgersi che questa non è una parabola, non sia una parabola, è il fatto di schiacciare un po' il grafico. è un esempio che porto spesso nei Mad Men per dire, perché aiuta un po' il cervello a notare che non necessariamente siamo in una parabola ma siamo potenzialmente in una crescita sana. Lo dico solamente perché come l'abbiamo visto altre volte, ok, ciò che può sembrare una super salita poi può diventare un piccolo sputacchio. Questo va bene, con i Mad Men l'abbiamo visto soprattutto nel 2014-15, è una cosa che nel bitcoin si ripete tantissimo, ok, vedete come alti spinte poi diventano veramente piccole curvette. Quindi non sono del parere che il bitcoin abbia finito la soccorsa, anzi penso che questo sia un respiro estremamente sano da parte del bitcoin. Ora come sappiamo possiamo metterci a fare tanti bei disegnetti molto semplici, io sono della scuola del non incasinate troppo le cose, do not over trade, non fate over trading e non disegnate troppe robe che non sono altro che tentativi di bias della conferma se la vogliamo mettere dal punto di vista cerebrale. Piuttosto stiamo molto leggeri e guardiamo dove sono le resistenze maggiori e dove possiamo andare. In questo modo ci possiamo rendere conto che il bitcoin è tipo sospeso, non si è bloccato da nessuna parte, quindi una probabilità non bassa è quella che nonostante questa piccola spintina verso l'alto che sta dando oggi, che ricordiamoci siamo sul daily quindi deve ancora finire, questa spintina verde può concludersi come rossa come tutte queste, quindi per ora stiamo salendo ma non è detto. L'idea, diciamo, si può intrattenere l'idea del fatto che il bitcoin rimbalzi a questa importantissima resistenza, anche perché sarebbe un po' un punto importante anche dal punto di vista dell'estensione fibonacci, siamo sul 6,18 quindi tornerebbe anche da questo punto di vista e soprattutto se è discesa dal punto più alto notiamo anche che è un ottimo 30%, quindi tutto, se dobbiamo parlare di probabilità diciamo che questo punto qua, ok, soprattutto se ci mettessimo un po' a scendere perché allora toccherebbe anche la trendline che ricordiamoci possiamo anche farla un po' sporchetta, no? Cioè non stiamo là a essere precisi, però questo è un ottimo punto di rimbalzo. Se il bitcoin andasse a finire lì sarebbe la cosa più sana che possiamo vedere nella salita del bitcoin e un mare di gente metterebbe ordini qua per cui da qua ci sarebbe una bellissima, una bellissima spinta verso l'alto. Chi acquista qua ha anche il vantaggio poi di notare che se per qualche motivo le cose vanno male, perché c'è sempre una probabilità che vadano male, nel momento in cui rompe questo schema qua io posso vendere a un meno 5-6%, non ho perso molto e non rischio niente. Invece chi compra qua è già ridotto con delle emozioni faticose da gestire. Perché comunque la gente compra anche qua sopra? Perché in verità this is crypto, come dicono, e qui può accadere un po' di tutto. È vero che abbiamo delle indicazioni forti che il bitcoin possa andare lì, ma quando tutti pensano che una cosa vada in una direzione, ecco che il bitcoin va in un'altra. Quindi come probabilità tu dici che c'è la probabilità che tocchi lì, però siamo in attesa in questo momento effettivamente. Sì, noi ora siamo in balia, ma in balia positiva del mercato, nel senso che il mercato ci deve confermare qualcosa. Ad oggi noi siamo in un momento in cui sta prendendo, per esempio, proprio oggi un mini respiro. Se vado sulle quattro ore, posso addirittura vederci un pattern che potrebbe proprio far tornare con una gamba contraria a questa qua sotto. Quindi diciamo che l'idea è che la cosa più probabile è che vada giù lì. Anche la cosa più probabile è che vada giù lì, ma poi c'è anche questa cosa qua che è accaduta nelle ultime quattro ore. No, cioè abbiamo rotto questa resistenza qui e quindi in queste nuove quattro ore bitcoin potrebbe prendere una spinta verso l'alto. Quindi potrebbe fregare tutti, non andare a toccare mai i 40.000, 41.000, perché poi ricordiamoci anche che sarebbe stata soglia psicologica, quindi sarebbe stata interessante, però potrebbe andare tranquillamente verso l'alto. E allora lì ecco che con il nostro bias della conferma possiamo andare a fare dei test per vedere, ah ma guarda guarda, quindi in verità lui tocca una serie di punti qua e avrebbe solo sforato qua sotto. Diciamo che questo è il motivo per cui io preferisco con i bitcoin che l'analisi tecnica sia sempre permettetemelo un po' sporchina, cioè siate veloci nel fare i disegni perché c'è gran poco da dire qua. Queste possono essere tutte conferme da tutte le parti, ok? Io posso disegnare un grafico qui e notare che guarda, attenzione, anche qui torna tutto, ok? Le posso vedere da tutte le parti queste cose qua. La cosa più sana da fare è, dove sono i punti più forti? Ok, li sta toccando? No, bene, quindi io attendo, ok? Voglio comunque investire perché non sono fuori, perché voglio entrare nel bitcoin e ho paura di perdere il treno? Allora una volta che riconosco bene le mie emozioni, e con i madman quello è il punto cruciale di tutto il processo perché è proprio questo il punto, capire le proprie emozioni in modo da fare profitto, non perdere soldi, ecco che allora posso decidere che se non voglio perdere il treno, un acquisto avrei potuto comunque farlo in questa zona qua e se il bitcoin mi ritorna giù io faccio uno scale in qua sotto e acquisto ancora, in modo che la mia media poi sia qua in mezzo. Oppure se sono una persona di un altro profilo di rischio, qua di nuovo bisogna conoscere il proprio profilo di rischio, potrei vendere poco sotto dove ho acquistato e riacquistare qua sotto. Diciamo che alla base ci sta il fatto che fin tanto che si acquista in punti bassi non è mai troppo sbagliato, soprattutto se si ha un piano, quindi di scale in, nel momento in cui io invece faccio acquisti qua in cima perché penso che bitcoin vada bene, io chiudo semplicemente ricordandovi l'esempio che faccio sempre con i madman delle magliette. Comprereste una maglietta a 58 euro quando fin l'altro ieri costava 40 euro? No, vi darà un po' fastidio, soprattutto se dopo due giorni torna a costare 40 euro. Quindi tentate di usare il pensiero controintuitivo perché il cervello ci porterà sempre a immaginare che quando è tutto verde sia ora di comprare, quando è tutto verde è ora di vendere, quando è tutto rosso è ora di comprare. Invertite le cose e se siete bravi in photoshop invertite il grafico al contrario e vi aiuta anche questo, ma abbiate pensiero controintuitivo. Grazie Mick dell'analisi, fantastico. Grazie a te. Ti riaspetto alla prossima. Alla prossima ragazzi. Vi aspettiamo sui madman comunque. Oh yes. Tornando a noi, non so quanto vi possa interessare ma questo è il mio attuale portafoglio cripto. Non so quanto vi possa interessare proprio perché attualmente sto facendo trading quindi tutte le posizioni che ci sono all'interno del mio portafoglio continuano a variare continuamente. Una cosa da notare, in questo momento non ho nessuna posizione in bitcoin, però la cosa cambierà sicuramente in modo veloce. Comunque escludendo il trading, per chiunque fosse interessato a creare una posizione su bitcoin senza impazzire con i grafici, vi lascio questo link dove condivido la strategia che io ritengo la più semplice, la migliore e che è anche quella che io ho utilizzato per iniziare ad esporsi su questo mondo delle criptovalute, in particolare su bitcoin. Poi ultimamente, sempre più spesso, mi vengono chiesti i servizi che io utilizzo per comprare, fare trading, custodire bitcoin. Quelli che ultimamente sto utilizzando per la maggiore sono coinigi, binance e cripto.com. Vi lascio di tutti e tre i link qui sotto in descrizione e dovrei avere anche dei bonus in vita un amico di cui potete se volete approfittare. Comunque lo dico sempre e mi raccomando, se vi state approcciando ora al mondo delle criptovalute, i primi due argomenti che dovete andare ad approfondire sono come acquistare in sicurezza e custodire in sicurezza le vostre cripto. Io ci ho fatto un video ma è un argomento iper delicato che vi consiglio di andare ad approfondire. Ed ora siamo arrivati a tutti i progetti futuri che mi aspettano e ci aspettano. Vi invito ad iscrivervi al canale così potete farne parte nel prossimo mese. Sicuramente continuerò i miei piani di accumulo perché sto entrando con il dollar cost average quindi tutti i miei portafogli non sono mai completi ma sono in continua evoluzione dove cavalco il mercato. Poi aspettatevi di vedere diversi contenuti per quel che riguarda il mondo delle criptovalute dove sto approfondendo e mi sto informando moltissimo soprattutto per quel che riguarda la parte di trading dove sono ormai attivo da diverso tempo. Poi come sapete sto lavorando ed investendo tantissimo tempo e soldi su risparming che vorrei diventasse la community di riferimento del risparmiatore in Italia. In questo momento stiamo per toccare le 15.000 persone su Instagram e sono contentissimo perché ci stiamo allargando tantissimo e stiamo lavorando su tantissime cose. Infatti come avete visto lo scorso mese è partito il canale di Risparming Show dove l'obiettivo è condividere esperienze per crescere insieme ed educare le persone all'utilizzo dello strumento denaro. Andateci a dare un'occhiata perché anche lì stiamo facendo un lavoraccio che reputiamo molto utile e su cui ci stiamo anche divertendo ed oltre a tutto questo sono estremamente elettrizzato perché nel prossimo mese Risparming cambierà nome faremo ribranding e in contemporanea lanceremo la nuova applicazione con un nuovo design un nuovo aggiornamento che sarà finalmente disponibile su Android non vedo l'ora di fare questo lancio perché è un lavoro che dura da un sacco di tempo e quindi non vedo l'ora che anche voi possiate vedere quello che sto facendo quello su cui abbiamo lavorato con diverse persone e diversi sviluppatori ormai da tempo vi invito anche ad unirvi alla nostra community stiamo cercando di portare del cambiamento in positivo per quel che riguarda il mondo della finanza personale e del denaro dove purtroppo in Italia siamo ancora carenti noi ci stiamo impegnando e stiamo cercando di portare questo cambiamento e ringrazio tantissimo tutte le persone che con me stanno lavorando e si stanno impegnando detto questo nel frattempo alle mie spalle si è fatto buio e io devo uscire a correre per allenarmi ad una maratona in conclusione ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto questo e qual è secondo voi la direzione che va presa lasciate un mi piace se questo video è stato interessante e vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri contenuti che stanno arrivando e noi ci vediamo alla prossima avventura ciao a tutti ragazzi